Ottimo, buonasera a tutti, benvenuti nella foresta di Sherwood per questo incontro organizzato da Eco Magazine, un osservatorio sui conflitti ambientali, un sito internet che si propone di analizzare i conflitti presenti nel nord-est, conflitti che riguardano soprattutto l'ambiente ma non solo. In questo incontro con Elena Mazzoni che ringraziamo, coordinatrice della campagna nazionale Stop TTIP e Mattia Donadel del Comitato Opzione Zero della Riviera del Brenta, Fano della Rete dei Comitati Ambientali dell'Alto Vicentino, vogliamo parlare di TTIP e Sblocca Italia. Possiamo dire che il TTIP e lo Sblocca Italia sono facce della stessa medaglia, sono strumenti di quella stessa ideologia neoliberista che si basa su un accumulo di ricchezza per espropriazione, una espropriazione e un saccheggio dei nostri territori, delle risorse naturali, dei beni comuni, dell'acqua, del patrimonio pubblico, della stessa energia, un'espropriazione a tutti gli effetti anche di democrazia perché toglie potere decisionale ai cittadini. Il TTIP, il Trattato Transatlantico sul Commercio e gli Investimenti, è un accordo commerciale di libero scambio tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti che è stato discusso in gran segreto tra Commissione Europea e Stati Uniti. Un trattato che dà un potere, come mai si è visto prima, alle multinazionali di massimilizzare i profitti a discapito dei diritti, della salute, dell'ambiente, a discapito appunto della stessa democrazia. Nel vertice che c'è stato a giugno qualche settimana fa del G7, i sette paesi più industrializzati in Italia compresa, abbiamo visto come nei colloqui intercorsi ci sia di fatto un'accelerazione per far approvare il TTIP. Infatti partiamo un po' con Elena che ringraziamo per aver accettato l'invito, un po' per capire cos'è il TTIP e quali effetti può avere sulle nostre vite nel momento in cui venisse approvato. Grazie Stefano, buonasera. Innanzitutto di che cosa parliamo quando parliamo di TTIP? Parliamo di un accordo commerciale tra Stati Uniti ed Europa, quindi un accordo commerciale tra due realtà che da sole detengono il 46% del PIL mondiale. Un trattato commerciale che è una peculiarità perché è il primo trattato commerciale che va a toccare non delle semplici barriere tariffari, bensì delle normative che per noi sono delle normative poste a tutela dell'alimentazione, poste a tutela della sicurezza del lavoro, sulla sicurezza ambientale poste a tutela della salvaguardia anche dell'ambiente e che per le multinazionali di entrambe le sponde dell'Atlantico vengono viste come delle limitazioni alla loro quota di profitto. Quindi questo accordo tra gli Stati Uniti e l'Europa, quello che va veramente a toccare sono tutte quelle che noi e anche loro nel mandato negoziale definiscono barriere non tariffarie. Quindi siamo di fronte a un trattato commerciale che in realtà di commerciale ha poco perché quello che va a toccare principalmente sono delle norme, dei diritti. Questo è ancor più vero perché per la prima volta all'interno di un trattato commerciale avremo anche un meccanismo di creazione di una sorta di armonizzazione tra la normativa europea in tutti gli ambiti del trattato, quindi in 24 capitoli suddivisi in tre macro aree e la normativa statunitense per far sì che due normative così diverse si incontrino in quella che diciamo molto positivamente viene definita un'armonizzazione e che noi che siamo preoccupati appunto dal trattato definiamo un attacco e una deregolamentazione. Il TTIP, TTIP come volete nominarlo, sta per partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti e è stato praticamente le prime fasi negoziali si sono avute nel luglio del 2013, attualmente siamo al nono round negoziale che si è svolto in aprile 2015 a Washington e avremo il decimo round negoziale 12, 13 e 14 luglio a Bruxelles. Quindi il scenario attuale è questo, lo scenario attuale si parla di sette round negoziali che si sono svolte nella più totale segretezza e quando parlo di segretezza non intendo di segretezza per noi che comunque tra virgolette possiamo anche essere definiti non addetti ai lavori ma una segretezza che riguarda anche coloro che avrebbero dovuto avere accesso ai testi negoziali. Quindi fino al settimo round negoziale era segreto anche il mandato, poi c'è stata una declassificazione del mandato nell'ottobre del 2014, da ottobre del 2014 il mandato è un mandato pubblico, quindi si può andare sul sito della commissione e consultarlo. Diversamente è per i testi negoziali, i testi negoziali sono comunque segreti, quindi i parlamentari europei hanno accesso ai testi negoziali europei prima della fase negoziale, privi di allegati tecnici e possono essere consultati questi testi non fotocopiati, non fotografati e possono essere presi appunti solamente su della particolare carta che non è fotocopiabile. Quindi i membri del Parlamento europeo hanno accesso ai soli testi negoziali europei privi di allegati tecnici, quindi solamente il testo senza gli allegati tecnici che sono quelli che poi danno proprio una particolarità più tecnica perché comunque un parlamentare europeo è vero che dovrebbe avere una competenza ampia però non può avere una competenza sul 100% degli argomenti di contrattazione. In più gli allegati tecnici sono quelli all'interno dei quali sono presenti i cavilli che poi sono quelli che creano preoccupazioni. Quindi vi dicevo fino al settimo round negoziale un trattato completamente segreto anche nel mandato, adesso invece c'è questa possibilità di accedere al mandato e ai testi negoziali dopo che il round negoziale è concluso. Quindi i parlamentari accedono prima con la modalità di cui vi parlavo delle reading room, mentre noi, praticamente società civile, possiamo accedere ai testi dopo che il round negoziale sia concluso. Ovviamente i testi non sono mai i testi completi, sono sempre senza allegati tecnici e sono il sunto quindi i testi che escono dalla negoziazione, non i testi con cui alla negoziazione sia arrivati. Il trattato ovviamente come tutti i trattati commerciali è un trattato che è tutto quanto nelle mani della Commissione europea e il Parlamento europeo che è l'organo democraticamente eletto può giocare un ruolo fondamentale ma solamente in questo momento. Quindi questo è il momento fondamentale per il trattato, giorni di grandissima mobilitazione ci sono stati a giugno quando poi il voto del Parlamento europeo è stato bloccato con una mossa che ha avuto molto poco di democratico. Quindi domani, quindi oggi c'è stata la discussione, domani in plenaria a Strasburgo di nuovo si voterà, il Parlamento europeo tutto si pronuncerà, non si pronuncia sul trattato, quindi domani non è che è l'ultimo giorno che noi abbiamo per opporci a questo trattato. Il Parlamento europeo si pronuncerà sulla risoluzione Lange che è una risoluzione fatta dal relatore della Commissione Inta, all'interno di questa relazione sono contenuti tutti quanti gli elementi di criticità del trattato che tutte le commissioni del Parlamento europeo che l'hanno seguito hanno comunque messo in evidenza. Quindi abbiamo 13 commissioni del Parlamento europeo che per competenza hanno seguito appunto il trattato, hanno rilevato le loro perplessità, queste perplessità sono diventate degli emendamenti, 111 emendamenti che sono contenuti all'interno di questa risoluzione che domani appunto verrà votata all'interno del Parlamento europeo o riunito in plenaria, cioè vuol dire tutti i membri del Parlamento europeo, mentre fino adesso il trattato era stato votato solamente all'interno delle singole commissioni. Quindi domani è una giornata fondamentale. In realtà domani, come vi dicevo, non è che si ha il voto sul trattato, però si ha un importante voto politico perché il trattato è tutto materia della Commissione, ma il Parlamento europeo comunque un ruolo ce l'ha, in questo momento può modificarlo, quindi può far passare un trattato con delle red line, cioè con degli elementi, cioè delle linee che non possono essere sorpassate, queste linee sono vade, c'è la questione degli OGM, c'è la questione dei pesticidi, c'è la questione del Tribunale per le Controverse è stato investitore, di cui magari poi faremo un piccolo accenno. Quindi tutte queste linee fondamentali, definite red line, sono presenti negli emendamenti. Gli emendamenti che si voteranno domani daranno il volto del trattato, quindi potrebbe uscire un trattato pessimo, come purtroppo temiamo, potrebbe uscire un trattato, invece potrebbero passare degli emendamenti che noi anche come campagna sosteniamo, gli emendamenti del gruppo parlamentare del GUE o anche alcuni emendamenti portati anche dal Movimento 5 Stelle per parlare dei parlamentari italiani. Quindi questi emendamenti che sono dei emendamenti di alleggerimento del trattato potrebbero passare. È ovvio che per noi il trattato non deve passare, ma non perché siamo contrari ai trattati commerciali, assolutamente non è quello il problema, è che questo trattato così come è strutturato è un attacco alla democrazia ed è un attacco ai diritti. Posso dire perché? C'è tempo? O mi volete? No, vado? Allora perché? I perché sono tanti. La prima cosa, quella che vi dicevo, è che il trattato va a toccare le barriere non tariffarie, quindi tutte norme a tutela della salute, del lavoro, della capacità di uno Stato di legge ferare, che vengono considerate per le multinazionali un impedimento al profitto. Vi faccio un esempio abbastanza di attualità, che è quello che è uscito recentemente, della questione del latte in polvere utilizzato all'interno della produzione dei formaggi. Allora noi abbiamo una normativa in Italia del 1974 che vieta comunque di realizzare formaggi con il latte in polvere. La Commissione Europea è intervenuta dicendo che dobbiamo togliere questa normativa perché questa normativa è una barriera a libero commercio. Perché? Perché in questo modo comunque le aziende che producono il latte in polvere piuttosto che le aziende che producono invece formaggi con il latte in polvere vengono penalizzati rispetto a formaggi prodotti con il latte tradizionale. Che cosa potrebbe accadere con il TTIP? Con il TTIP accade che, vi faccio il discorso in macro, noi in Europa abbiamo una normativa criticabile, con dei limiti, quello che volete, però abbiamo una normativa sull'alimentazione ben definita. Questa normativa è il RIC del 2006 e tra i suoi principi cardine c'è il cosiddetto principio di precauzione. Il principio di precauzione dice che nessun prodotto può essere messo in commercio a meno che non venga dimostrato che in tutte le sue fasi questo prodotto non è nocivo in nessun modo alla salute. Quindi qualsiasi prodotto che viene introdotto dal 2006, perché abbiamo avuto esperienze negative in precedenza con il problema del vino, l'abbiamo avuti con quella che volgarmente definiamo muccapazza, con il problema anche dei pomodori e le conserve eccetera, abbiamo imparato in Europa dai nostri errori si è introdotta questa normativa e questa normativa dice che qualsiasi prodotto messo in commercio in Europa è sicuro che non sia nocivo per la salute. Stiamo comunque parlando di una normativa che prevede anche l'utilizzo di alcuni prodotti, alcuni elementi che sono anche criticati come la questione dei parabeni nei cosmetici, quindi anche il RIC in sé non è che è perfetto al 100%. Negli Stati Uniti c'è una normativa invece del 1976, quindi è una normativa molto vecchia, che ha un principio esattamente opposto, quindi la normativa statunitense introduce il principio di prevenzione del rischio, ovvero qualsiasi prodotto può essere messo in commercio, sa poi al consumatore o a gruppi di consumatori dimostrare che questo prodotto sia nocivo per la salute. Quindi se non c'è, diciamo, questo prodotto intanto viene messo in commercio, poi qualora si riscontrino dei casi, si procede con le class action secondo tutto il meccanismo della giustizia dell'apparato comunque statunitense, quindi con una diversità rispetto comunque a quello che accade da noi, però immaginate due normative completamente opposte. Allora come si fa a far convivere due normative così diverse. È normale che ci sarà una cessione, qualcuno comunque rinuncerà alla sua normativa, potrebbe essere l'Europa che rinuncia a una sua normativa così astringente e una normativa di tutela, potrebbero essere invece gli Stati Uniti che decidono per la prima volta nella loro storia illuminante di democrazia di essere loro invece e dire no, stavolta siamo noi che ci adeguiamo agli standard europei e invece faremo in altro modo. Allora purtroppo, come vi dicevo il trattato è segreto, purtroppo non ci sono garanzie da nessuna parte che questo avvenga. Quello che accade adesso, quello di cui si parla adesso è un'armonizzazione delle normative e l'esistenza di un apposito organismo che è il regolato Recoperation Body che sta lì appositamente per prendere la normativa statunitense e la normativa europea in tutti gli ambiti del trattato e armonizzarle, cioè farle convivere. Quindi questo vuol dire che gli Stati Uniti dovranno rinunciare a qualcosa forse, che l'Europa dovrà rinunciare a qualcosa. Un altro dei punti di criticità enorme all'interno del trattato e questa non è una novità, ma è una prassi comune all'interno di tutti quanti gli accordi commerciali, è l'esistenza del meccanismo di risoluzione delle controversie denominato ISDS. In pratica che cos'è? È un meccanismo di protezione per gli investitori stranieri. Quindi tutti gli investitori stranieri che stipulano un accordo commerciale con uno Stato sovrano, invece di ricorrere alla giustizia ordinaria, quindi in qualsiasi caso si sollevi, ricorrere a tutta quanta la giustizia ordinaria, quindi in Italia tutti i vari giudici, corte di Cassazione, eccetera, la classica giustizia ordinaria, ricorre immediatamente a un tribunale apposito, un lodo arbitrale. Questo lodo arbitrale è composto da tre soggetti, che sono un giudice nominato dalla parte attrice, quindi qualora prendiamo una multinazionale che investe in uno Stato in un settore come quello di attualità, che potrebbe essere quello delle energie rinnovabili. Quindi mettiamo che ci sia una multinazionale che investe in Italia perché c'è stato il periodo in cui venivano dati gli incentivi al fotovoltaico, questa multinazionale investe in Italia perché in quel periodo c'erano gli incentivi per il fotovoltaico. Poi cosa accade? Che l'Italia ritira il provvedimento oppure fa quello che abbiamo conosciuto, il decreto spalma incentivi, quindi prende questi incentivi che dovranno essere rivolti solo al fotovoltaico e decide di spalmarli su tutta una serie di energie. Quindi il fotovoltaico ha meno sovvenzioni, quindi ha meno guadagno. Che cosa può fare la multinazionale? La multinazionale cita in giudizio per quella quota di mancato guadagno l'Italia. Quindi abbiamo una multinazionale che cita in giudizio non stato sovrano. Il meccanismo funziona così. Un giudice viene nominato dalla parte attrice, quindi in questo caso la nostra multinazionale che cita che fa il fotovoltaico, un altro dalla parte convenuta, quindi l'Italia che si deve difendere per la normativa introdotta, ovvero per lo spalma incentivi. Il terzo giudice viene nominato dal Fondo Monetario Internazionale. Quindi il meccanismo è questo, abbiamo questi tre soggetti. Questi giudici sono dei soggetti che funzionano in maniera autonoma, non hanno delle normative da rispettare, si riuniscono nella wall di grandi alberghi e sono dei soggetti che possono ruotare. Quindi il giudice A, che è stato difensore della multinazionale in una causa, nella causa successiva può essere difensore invece dello Stato piuttosto che svolgere la funzione di arbitro. Il giudizio è un giudizio a dei tempi molto brevi rispetto alla giustizia ordinaria, quindi si parla di una tempistica di sei o otto mesi. Alla fine del giudizio cosa accade. La multinazionale potrebbe vincere, quindi citare e quindi lo Stato italiano essere condannato al pagamento delle spese legali più alla quota del mancato guadagno. Se invece lo Stato non può risolvere, non è ad impiente, l'alternativa che ha è costretto a ritirare il provvedimento. Allora nel caso dello Spalman Centivi magari potremmo anche essere tutti contenti che venga ritirato il provvedimento, però abbiamo esempi come la Wattenfall svedese che fece causa alla Germania quando ci fu il referendum contro il nucleare che la Germania fu costretta a ritirare per non pagare l'indennizzo alla Wattenfall il risultato del referendum sul nucleare. Quindi il provvedimento su antinucleare della Germania venne ritirato. Che cosa succede? Quindi siamo di fronte comunque a un'enorme limitazione della capacità normativa degli Stati in due sensi. Il primo è oggettivo, cioè io ti impongo di ritirare un provvedimento che può essere un provvedimento a tutela del lavoro, come è successo con l'Egitto e la Veolia, può essere un provvedimento di tutela ambientale come la Germania e la Wattenfall, può essere un qualsiasi altro tipo di provvedimento, ma questo influisce anche sulla capacità normativa degli Stati a priori, perché uno Stato impaurito dalla possibilità di essere citato in giudizio molte volte viene frenato nella sua capacità normativa. La prova che questo non è fantascienza sta nel fatto che ci sono innumerevoli casi di ISDS, che l'ISDS è la linea red line assoluta su cui si sta dibattendo in questi momenti proprio adesso al Parlamento europeo e che comunque per la prima volta nella sua storia l'Italia, è notizia che abbiamo dato noi all'incirca 15 giorni fa, è stata citata in causa proprio per una questione di fotovoltaico da tre multinazionali, mi sembra una austriaca, una multinazionale belga e la terza non la ricordo, però quello che c'era stato dipinto come un meccanismo che funzionava perché poi alla fine quelli che soccombevano erano sempre paesi in via di sviluppo nei confronti delle multinazionali degli Stati ricchi e già questo per me può essere anche eticamente discutibile perché a me c'è il fatto che sia il paese in via di sviluppo piuttosto che l'Italia a soccombere in un giudizio privato, cioè non è che mi cambia nulla da un punto di vista etico, per me è comunque un discorso sbagliato, però poniamo che vogliamo adottare una logica nazionalista, patriottica e dire vabbè ma noi andiamo là nei paesi in via di sviluppo e ci arricchiamo, non è così perché anche l'Italia è stata citata in giudizio e poi immaginate comunque la questione SDS rapportatela a Stati Uniti e Europa e capite come noi in quel caso l'Europa è il paese in via di sviluppo degli Stati Uniti, cioè non è che ci vuole molto, insomma un'intelligenza particolare per avere questa chiave di lettura. Gli SDS appunto vi dicevo per la prima volta l'Italia è stata citata in causa per una normativa abbastanza vecchia che è il decreto Romani, credo del 2010, non mi vorrei sbagliare, forse qualcuno lo sa meglio di me, il decreto Spalmo Incentivi di cui vi facevo l'esempio prima dà adito ancora maggior numero di ricorsi, tant'è vero che l'Italia si è ritirata dalla carta per l'energia che prevede un meccanismo di risoluzione delle controversie Stati investitore identico agli SDS, cioè identico a quello che io vi ho descritto. Questo per farvi capire che non è una roba da tale bani della decrescita a dire noi abbiamo paura degli SDS, gli SDS è qualcosa di veramente pericoloso. È stato oggetto di una consultazione da parte della Commissione Europea, la consultazione è stata fatta su 150.000 europei e tutti quanti i 150.000 europei hanno detto che loro erano contrari e ovviamente è stata fatta su 150.000 europei perché hanno scelto un campione, perché se fosse stata fatta su tutta quanto Europa penso che comunque la percentuale di persone contrarie alle SDS sarebbe stata comunque molto alta.